Buongiorno a tutti, siamo in Portimao per il 2022 offizionato della squadra di Lamborghini Squadra Corse. 16 motori hanno stato scelto per partecipare in questa attività importante per mostrare il loro potenziale. I due motori, uno per ogni categoria, riceveranno supporto per la seasona 2023. Ciao ragazzi, sono Dani Formal, sono qui nel programma Young Driver Shootout. Questo è il mio secondo evento in il Shootout, è stato molto bene, sono molto orgoglioso di essere qui. Sono molto orgoglioso per la squadra di Lamborghini Squadra Forza per questa opportunità. Ho spero che ho fatto bene e ho avuto i risultati che voglio. Sono Leonardo Pulcini, ho appena finito la simulazione di race. Questo anno ho vinto la GTO Open Championship con la GT3 Huracan. Ho spero di continuare con la Lamborghini. Grazie per il supporto e vediamo in un sito. Ciao.